Condannato a 4.000 euro di multa un allevatore di Teranova Bracciolini che nel gennaio 2011 era stato denunciato per maltrattamento di animali. Erano stati gli agenti della forestale di loro ciuffenna a denunciare alla Procura della Repubblica di Arezzo l'imprenditore per aver maltrattato decine di pecore e capre causandone in molti casi la morte. Era stato il cattivo odore che arrivava fino alla strada a catturare l'attenzione dei forestali. All'interno della struttura c'erano 16 carcasse di pecore e capre in diversi stati di decomposizione. Nel retro del fabbricato si poteva camminare su un vero e proprio letto di ossa e resti di animali. In altri annessi agricoli ancora resti di numerose pecore e capre ed in una stalla fatiscente legata ad una catena un bovino adulto morto e lì vicino un altro carbonizzato. Nel pascolo c'erano anche tre vitelli vivi ma in evidente stato di malnutrizione. Insomma un vero e proprio lager, il responsabile dell'allevamento, un quarantenne residente a Terra Nova Bracciolini, è stato quindi denunciato e adesso anche condannato dal Tribunale di Arezzo ad una multa di 4.000 euro.